Sì, quante volte? Sempre, sempre. Ossia? Sette volte. Tutti i giorni? Sì. E preferisci giocare o vedere la televisione? Vedere la televisione. E tu? Vedere la televisione. Anche tu vedere la televisione? Sì, sì. Come è male? Come è male? Perché è meglio. È più bello. Vedendo la televisione mi diverto di più. E tu? A me piace la televisione quando si fanno dei film belli e importanti. E quando non c'è niente di bello, non c'erano. Quali sono i film importanti che fanno dei film belli e che fanno dei film belli? Non c'è l'otto. E quale è la televisione? Non c'è l'otto. E tu quale è la televisione? A Ivanova. Come è male? Che è un grande eroe. Aiuta i poveri nei pericoli. E per te quale è l'eroe? A Ivanova. Come è male? Che è molto coraggioso e perché sta usando la squadra. È molto genitore. Viene il nuovo gioco? Sì. Quale? Viene il nuovo gioco? Sì, sì. Quali? Quello del mio figlio adesso. Come lo fanno? Che è una fa la parte delle due bambini e due perché i bambini lo fanno. E a voi bambini la televisione ha preferito nuovi gioco? Sì, sì. Quali? Quello del mio figlio adesso. Come lo fanno? Che è una fa la parte delle due bambini e due perché i bambini lo fanno. Come lo fanno? Che è una fa la parte delle due bambini e due bambini e due bambini. Come lo fanno? Che alla prossima? Come lo fanno? Che è una fa. Che è una fa. Che è un bambini e due bambini. Alla prossima? preferences. hurricaneà? Quindi. 뭐 certi sono io. Che state la tua copia? Che situa il di sinistra è paz? Che è Professor. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.